ciao a tutti e bentornati in questo nuovo giveaway con GR0 ciao a tutti e come avevamo promesso nei precedenti video abbiamo raggiunto 300 iscritti siamo in road through 350 iscritti quindi abbiamo deciso di aggiungere questo giveaway nel mezzo perché il prossimo giveaway era quello dei 350 però abbiamo deciso come un po di charizard chr di v max climax da poter regalare abbiamo deciso di fare un giveaway di intermezzo quindi chiunque volesse può partecipare iscrivendosi al canale ovvero il canale degli r0 esatto e poi commentando questo video basta scrivere un normalissimo partecipo potete scrivere un po quello che volete vi verrà segnato un numero e poi faremo l'estrazione mi raccomando un solo commento basta uno solo e mi raccomando bisogna essere maggiorenni avere l'autorizzazione del papà attenzione ai vari bimbi che vanno in giro con gli account dei genitori a scrivere dovete avvisare questi genitori che devono essere aware devono essere devono sapere che state partecipando al giveaway la carta poi sarà spedita al vincitore dopo un'estrazione live con posta 1 sempre tracciata carico nostro degli eri dagli r0 bene l'estrazione quindi avete tempo per commentare la carta fino al domenica 10 aprile alle 23 59 ma alle 24 non sarà più valido il commento dagli r0 che vi ringraziano per averci portato a 300 iscritti in poco meno di cinque mesi credo adesso si è da ottobre adesso quindi ottobre novembre dicembre gennaio per 4 no siamo marzo quindi quasi cinque mesi diciamo grazie grazie di cuore da riccardo e roberto è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao